Mi piace l'idea di accogliere le persone e dare informazioni. Mi fornisce competenze, utili ora e nella vita. Aiutare gli altri mi fa sentire bene. È un'esperienza nel mondo del lavoro, posso mettermi alla prova. 400 euro al mese possono farmi comodo. È un'opportunità, hai visto mai! Servizio civile nei pronto soccorso. Il bando della Regione Toscana scade il 14 febbraio. La tua scelta è urgente. Info su regione.toscana.it slash servizio trattino civile e giovani.it slash servizio trattino civile